E invece tu fai fare il corso a gente che magari non ha neanche la licenza di pubblica sicurezza. Problematiche cinghiale, tubercolosi e peste suina. Con in mano documenti, leggi, statuti e regolamenti, Massimo Lupo, presidente provinciale di Crotone dell'Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, incontra la stampa e muove diverse critiche all'operato degli ATC, gli ambiti territoriali di caccia. Siccome noi abbiamo un grosso problema con la tubercolosi, che viene gestito in maniera molto, secondo me, fallimentare, perché gli ATC che dovrebbero gestire il territorio invece perdono tempo a livello locale, sia l'ATC KR1 che l'ATC KR2, a emettere regolamenti, regole, regolette, che sono notamente in contrasto con quello che è il piano, perché il piano prevede l'abbattimento, prevede gli orari e prevede le zone. Stop! Non prevede altre cose. Siccome gli ATC KR1 e KR2 perdono tempo per fare queste cose qua, perché ci sei gente che non vuole che sia compromesso il territorio della caccia girata, io penso che è giunto il momento in cui la Regione Calabria, nella persona del Presidente, prenda di mano questa cosa, mi convochi per un parere, perché ho chiesto di parlare con lui, ma i suoi funzionari non hanno inteso convocarmi, a mio modestissimo avviso, perché si deve prendere di punta questa questione e mettere un regolamento a livello regionale che sia chiaro per tutti, ma c'è già il piano di abbattimento ed è sufficiente e non servono ulteriori regolamenti, secondo me, e chiarire una volta per tutte che gli ATC non possono fare regolamenti.